e abbiamo cercato in italia per mettere i vestiti belli perché in corea e in giappone è già avanzato tipo vestito bambino già alla moda quindi ci sono posso trovare tanti tipi di vestiti poi altre cose quindi ho pensato di portare dalla corea e giappone in italia non è facile perché allora ancora stile coreani giapponesi per i bambini ancora non sono non tutti io apprezzerei ho pensato di aprire un sito online per vedere tutti in italia anche al mondo quindi molto importante ho ricercato poi su internet poi ho letto recente così sì quindi ho pensato è molto buono sì sì così ho scelto questo contenit